Musica Allora, sono Nicola Antonio Gutturi, dirigente scolastico del liceo classico artistico fiorentino di Lamezia Terma e sono qui al Tribunale di Lamezia Terma, invitato dall'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terma per quanto riguarda una tematica che sta molto a cuore delle scuole, che è il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Come scuola siamo molto sensibili e attenti a queste iniziative, a queste attività, per questo ringrazio l'Ordine degli Avvocati con il suo presidente, per aver concesso e aver dato la possibilità ai nostri studenti di questo momento formativo, informativo che tocca molto l'aspetto squisitamente pedagogico e didattico della scuola. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è sempre stato all'attenzione della comunità scolastica e la comunità scolastica, che è sempre stata, ripeto, molto sensibile, anche ha seguito, specie lo scientifico, specie il classico fiorentino, ha anche seguito le linee guide che sono state di recente emanazione da parte del MIUR su quelle che sono le norme comportamentali nei casi di bullismo e del cyberbullismo. Anche qui i nostri ragazzi avranno modo di poter essere formati e informati su una serie di azioni che fanno parte della loro vita sociale.